Innanzitutto una prima impressione di Reggio a pochi giorni dal suo arrivo. Sono particolarmente contento di questa destinazione e come dicevo la città mi ha particolarmente entusiasmato per la sua realtà, la sua vivacità che rappresenta un tessuto connettivo sociale sano, estremamente produttivo e quindi mi auguro di poter svolgere un lavoro proficuo per la comunità dedicando tutto a me stesso. Quali sono gli obiettivi di questo suo nuovo incarico? Il mio incarico è quello di condurre, di coordinare le forze dell'arma di carabinieri a livello provinciale al fine di poter garantire la sicurezza che la comunità reggiana si aspetta dalla nostra istituzione soprattutto auspicando di poter colpire quei fenomeni più pervasivi di criminalità predatoria che sono la base di quel senso di insicurezza che la comunità percepisce. Accanto alla criminalità comune ovviamente ci sono le grosse organizzazioni criminali. Il lavoro investigativo continuerà a essere svolto sull'onda di quelli che sono stati i risultati che ben conoscete e che sono già attualmente in fase processuale con il processo Emilia e quindi si continuerà a mantenere molto alto il livello di attenzione e info-investigativa su tutti i fenomeni che in qualsiasi maniera, in qualsiasi modo possono attaccare e colpire il territorio anche indirettamente. Sul fronte della criminalità, tornando a questo tema, gli episodi che creano a destra molto allarme sociale, un grande senso di insicurezza, lei come intende il processo? Beh, cercando soprattutto di poter dare massimo impulso alla proiezione esterna dei reparti, quindi cercando di razionalizzare i processi di lavoro interno per favorire con le forze che sono a nostra disposizione la massima proiezione. Massima proiezione significa soprattutto analizzare quelle che sono le fasce orarie, le zone che sono maggiormente attaccate dalla criminalità predatoria e lì far gravitare tutti i servizi possibili. E se laddove tutto ciò non dovesse bastare, ovviamente chiederemo, mi auspico di poter ottenere in accordo con le autorità di pubblica sicurezza anche il supporto dei reparti mobili dell'arma che possano eventualmente effettuare dei servizi straordinari di controllo del territorio. Quindi là dove le forze non bastano si deve auspicare ad un maggiore coordinamento e a ottenere anche da parte dell'arma dei carabinieri quelle possibili unità di rinforzo anche solo per effettuare servizi straordinari e quindi cercare di essere maggiormente incisivi.